Assessore, da circa una settimana sono iniziati i lavori lungo la Scarpata, anche in questo caso una risposta importante è data alla città. Sì, sono iniziati appunto da una settimana e dureranno un mesetto circa proprio per cercare di non intralciare quello che sarà poi il lavoro estivo degli stabilimenti. Questo ricordo che è un lavoro che è stato reso possibile grazie alla collaborazione preziosa delle ferrovie dello Stato che si sono messi a disposizione con un consolidamento della Scarpata, quindi con un muretto di elementi di calcestruzzo che poi diventerà un muretto fiorito, abbellito con della vegetazione, ma anche con un intervento delle scuole dell'Istituto Apolloni che lo colorerà. Quindi vedrete che ci saranno anche delle sorprese perché quando vogliamo migliorare la vivibilità di un posto siamo in tanti ad interagire. I lavori stanno procedendo con grande velocità, quindi sono molto contenta. Gli stabilimenti sono stati con me dalla prima ora, così come le associazioni di categoria. Abbiamo costituito proprio un tavolo per cercare di non creare problemi ma di costruire dei vantaggi come quelli che ci saranno. Quindi andiamo avanti cercando di mantenere i tempi che ci siamo dati.